Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Oggi il mondo piange la scomparsa di Tina Turner, la leggendaria regina del rock che ci ha lasciato dopo una lunga malattia. La notizia è stata annunciata dal suo portavoce, come riportato da Sky News. A 83 anni, Tina Turner si è spenta serenamente nella sua casa di Kuznacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. La sua voce potente e il suo talento straordinario hanno reso Tina Turner un'icona della musica, lasciando un'impronta indelebile nell'industria. Il suo lascito sarà sempre ricordato come un modello di ispirazione per le generazioni future. Il mondo della musica ha perso una vera leggenda, ma il suo spirito vivrà per sempre attraverso le sue indimenticabili canzoni. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie mille.